Cosa mi sono chiesto di come le madri stai? Le madri stai? No. Ma io mi ricordo un'è da liberare i redi e non le basti hanno l'euro in latino. No, no, no. No, no. No, no. No, no. 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 Mi scopo è vero. Asso! 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 Andiamo! Asso! Scopera prendata Le Sue, la fiume Il Grazie a tutti. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.